Nelle miniere di Moria, le rocce sono un po' troppo morbide. Perché Frodo urla, nooo, mentre Gandalf è ancora appeso al bordo, se nel film precedente è urlato solo dopo che questo è caduto. Capisco che il mago abbia raggiunto Balrog cadendo dopo mezzo minuto, perché il corpo di questo, essendo più largo, cade più lentamente. Ma è impossibile che potesse raggiungere anche la sua spada in volo. Il pane è avvolto nell'alga in modo differente in mezzo alle riprese. Le gambe degli hobbits schiaffeggiano le rocce come se fossero a gomma. Stiamo girando in tondo. Cos'è questo orribile tanfo? Ci deve essere una palude fetida. Perché mai dovrebbe esserci una palude marcia in alta montagna? Avvicinandoti furtivamente a qualcuno, bisogna sghinizzare ad alta voce giusto per svegliare le vittime e rovinare i tuoi piani. Come ha fatto Frodo a rimuovere la corda dal collo di Gollum se la testa era molto più grande del cerchio creato con la corda? Che poi se si toglie così facilmente? Perché Gollum non l'ha rimossa fin dall'inizio per scappare? Aragorn ha dista qualche giorno dagli orchi, ma questi percepiscono comunque il suo odore, mentre lui sente il rumore dei loro passi decine di chilometri di distanza. Gimli ha una tale fretta che perde la sua armatura per strada. La spilla di pepino fu schiacciata nel fango in modo molto diverso rispetto a quello in cui la trova Aragorn. Ma come può Isengard essere a nord-est degli eroi se è esattamente a ovest? Forse bisognava dare uno sguardo alla carta della terra di mezzo prima di aggirare il film. Per qualche strano motivo la mamma decide di lasciar fuggire con il cavallo solamente i suoi figli. Forse crede che 50 kg saranno un peso troppo eccessivo per un cavallo e quindi questo cadrà sovraccarico. Qui vediamo che Teodret viene portato con la faccia completamente pulita. A letto per qualche strano motivo metà viso è coperta dal sangue, come se fosse stato ferito un attimo fa. Se ti va di supportarmi non ti dimenticare di lasciare sempre un mi piace al video, iscriviti al canale e attivare la campanella per non perdere i futuri aggiornamenti. Grazie. Mary e Peppino sono stati gettati nello stesso posto. Dieci secondi dopo sono già così lontani che Peppino deve strisciare di tre metri per raggiungere Mary. Duzzine di cavalli iniziano a produrre rumore solo quando vengono inquadrati dalla telecamera. A quanto pare hanno degli zoccoli ultra silenziosi, poiché nella vita reale il galoppo dei cavalli si doveva percepire a chissà quelle distanze in piena notte. Tra l'altro gli Urukai percepiscono l'odore di Aragorn da chilometri di distanza, ma in tutto ciò non sentono un esercito a pochi metri da loro. Mi piace questa logica. Le mani di Peppino erano legate tutto il tempo, poi si slegono in qualche modo sotto il cavallo e immediatamente dopo si legano di nuovo così strettamente che bisogna tagliarle con l'ascia. Se gli eroi sono passati qui in bella vista, i cavalieri avrebbero dovuto notarli molto tempo fa, dato che erano diretti in questo posto e li avevano proprio davanti agli occhi. Sì, le spie di Saruman sicuramente escono allo scoperto come gli stupidi e vi fermano per parlare. Nessuno ha visto degli hobbit e noi abbiamo ucciso solamente gli orchi, quindi i tuoi hobbit sono sicuramente morti bro. Se il fumo degli orchi si innalza così tanto, come potevano gli eroi non notarlo con la visione elfica di Legolas e i talenti di Aragorn. Riescono a vedere gli orchi a chilometri di distanza, ma non sono in grado di notare una colonna di fumo davanti agli occhi. Fino ad ora non c'erano cavalli liberi e improvvisamente appaiono dal nulla. Il figo guerriero Eomer non è in grado di sedersi su un cavallo senza perdere la sua spada. I due cavalli sono vicini, un attimo dopo si allontanano di tre metri. Le frecce di Legolas si vedono dietro la sua spalla destra, qui invece dietro quella sinistra. Vabbè che non faranno altro che saltare avanti e indietro per tutto il film. La cintura di Pepino si trova accidentalmente sul mucchio di cadaveri bruciati, giusto per non dover scavare troppo a lungo. La capacità di vedere con precisione le azioni di piccoli hobbit sulle orme di un campo calpestato da dozzine di uomini e cavalli mi sembra una cosa un po' esagerata. La ferita era fin dall'inizio vicino al sopracciglio destro di Merry, nel bosco salta su quello sinistro. Tra tutti gli alberi della foresta, gli hobbit si arrampicano per puro caso su leader degli Ent. Praticamente è come se avessero vinto una lotteria. Cliché, invece di uccidere subito l'eroe, il nemico perde tempo in vano aspettando affinché questo non verrà salvato all'ultimo secondo. L'orco appeso proprio sopra a Merry si teletrasporta a un metro di distanza in modo che l'Ent non schiacci anche hobbit con lui. Ma se pensi che questi siano orchi, perché non li hai schiacciati subito come fatto con l'orco vero? Come poteva Gollum tirare Frodo dall'acqua se si era allontanato un sacco da quest'ultimo e in più c'era Sam molto più vicino che doveva gettarsi immediatamente in suo soccorso. Gollum in nessun caso poteva farlo prima di questo. Gandalf poteva presentarsi davanti ai suoi amici come una persona normale, ma preferisce accecarli in modo che pensino che sia Saruman e iniziano a lanciargli spade e frecce. Sebalrog e Gandalf caddero in un luogo sotterraneo, come sono finiti in cima alla montagna. E non ho ancora capito come Gandalf si è sopravvissuto cadendo nell'acqua da chilometri di altezza. A sto punto poteva benissimo fuggire dalla torre di Saruman semplicemente saltando giù. Gandalf? Sì, è così che mi chiamavano. Perché fai finta di non ricordare tuo nome se hai parlato con Pipino e Merry proprio altro ieri? Vuoi dirci che non ti hanno chiamato per nome neanche una volta? Gandalf ha preso il mantello elfico grigio praticamente del nulla. Belle queste scarpe da ginnastica Gandalf bro. Se gli eroi hanno attraversato la foresta senza cavalli, perché questi ricompaiono di nuovo quando escono dall'altra parte? Quando Sam sale sulla sporgenza, i soldati si stanno avvicinando al cancello. Quando un secondo dopo crolla, metà dell'esercito è già a Mordor e alcuni oggetti sullo sfondo cambiano del tutto. I miracoli continuano. I soldati vanno dritto verso gli Hobbit, ma in tutto ciò fanno finta di non vederli. In che modo gli eroi guardano i piedi dei soldati se tra il mantello e il terreno non c'era nemmeno un po' di spazio? Sul viso del morto Theodred mancano del tutto i seni delle ferite con cui è stato portato qui. Sulla vista posteriore Gandalf si poggia sul bastone. Sulla vista anteriore lo porta orizzontalmente. Il bastone. Vi avevo detto di prendere il bastone dello stregone. Ma se l'hai visto entrare insieme al bastone, perché non hai protestato subito? Legolas colpisce così forte questo tizio che nella successiva inquadratura questo svanisce nel nulla. No mio signore. Lascialo andare. Troppo sangue è stato versato a causa sua. Eh sì, perché ucciderlo o incatenarlo qui? Lasciamolo scappare da Saruman a riferirli tutto. E in più gli diamo anche un cavallo, così fa prima ad arrivarci. Il bastone di Gandalf salta da destra a sinistra in continuazione. Mentre i suoi capelli bianchi come la neve sono diventati di nuovo grigi, come se avesse lavato la testa nella pozzanghera prima di andare al cimitero. Devi combattere. Hai 2000 bravi soldati che vanno a nord mentre parliamo. Aragorn è un gran guerriero, ma in matematica direi che faccia abbastanza schifo. Eomer non può più aiutarci. Ma non ti aiutava solo perché la tua mente era controllata da Saruman e quindi era inutile. Se gli chiedi aiuto adesso è chiaro che tornerà subito al tuo fianco. Il bastone salta magicamente dalla mano destra a quella sinistra. Gli hobbit dormono paralleli l'uno all'altro, subito dopo perpendicolarmente. E perché non si svegliano quando Gollum urla a squarciagola a qualche metro di distanza? Nessuno nota le teste degli eroi, nonostante stiano alla vista di centinaia di soldati. E guarda caso non appena Frodo si imbatte nei servi di Mordor che 5 secondi dopo questi vengono attaccati dall'esercito di Faramir. Che coincidenza! L'ascia nella mano di Gimli ruota costantemente durante questa scena. Aragorn poggia la mano a sinistra sulla guancia di Arven, poi sul girovita e poi di nuovo sulla guancia. Gimli a volte viene rimpiazzato con un tizio che non le assomiglia affatto. Due punte sporgono dal collare ma un secondo dopo scompaiono del tutto. Aragorn cade con la spada in mano, un secondo dopo si rialza solo con il manico. Qui sorge una domanda spontanea, perché mai un orco dovrebbe sapere che il tizio volato giù dal dirupo si chiama Aragorn? In che modo la madre di questi due è sopravvissuta se ci hanno chiaramente mostrato che tutti gli abitanti del villaggio sono stati uccisi non appena i bambini se ne sono andati. L'ascia di Gimli coperta dal sangue degli orchi si pulisce da sola. Se cadi incosciente nell'acqua non morirai affatto solo perché sei un personaggio principale. A giudicare del buco sulla spalla in questa ripresa vengono utilizzati due costumi diversi. Le lacrime sulle guance di Arven si asciugano in un attimo. E anche qui è presente il solito cliché della luna piena. Un errore alquanto grave. Gli hobbit sono seduti a terra accanto dei barili. Quando arriva Faramir gli hobbit si scambiano di posto, si siedono sulla coperta e i barili scompaiono del tutto. Ci sono due location praticamente diverse in tutto. Ma se la battaglia si terrà stanotte tra qualche ora, di quale aiuto stai parlando? Cioè conta che per arrivare dagli elfi il messaggero ci metterà qualche giorno. Tempo che preparino l'esercito per la guerra e il viaggio di ritorno saranno passate settimane ormai. Aragorn a tratti dice cose senza senso. Nelle grotte c'è così tanta luce come se dall'altra parte ci fosse un buco enorme verso la superficie. Gli occhi di Legolas sono di nuovo diventati neri, nonostante fossero sempre azzurri. Per qualche strano motivo in questa scena è stato inserito un potentissimo proiettore di luce bianca artificiale che dovrebbe fungere da luce solare. Perché mai le torce non si spengono sotto la pioggia? E cosa ci fa questa roccia di fronte alle mure del castello se di giorno non abbiamo visto niente del genere? Le frecce di Legolas hanno il piumaggio giallo, ma per qualche strano motivo quelle che colpiscono l'orco kamikaze hanno il piumaggio bianco. E quando l'orco salta nel tunnel non vedo nessuna freccia conficcata nel suo corpo. Sul bordo dello schermo vediamo la telecamera. Uccidere il maggior numero di nemici con gli archi finché c'è la possibilità? No, troppo banale. Meglio sparare un solo colpo e poi correre a combattere corpo a corpo, così è molto più epico. Legolas lancia lo scudo sulle scale e corre a mani nude. Un secondo dopo l'arco compare tra le sue mani. Aragorn afferra Gimli con la mano destra, ma quando vengono sollevati con la corda lo stringe con quella sinistra e poi di nuovo con quella destra. C'è un problema con la CGI. Durante la discesa vediamo che alcuni orchi trapassano il modellino del cavallo, mentre gli ultimi due cavalieri combattono con l'aria. La spilla sul mantello di frodo a ruota di 180 gradi. La breccia nel muro dovuto all'esplosione in questa ripresa scompare del tutto.